Buonasera, penultima giornata di campionato ricca di gol, ne sono stati segnati ben 26 e di vittorie in trasferta, 5, subito la schedina totocalcio e le classifiche. Ad Ascoli, Parmascoli 3 a 2, a Bergamo Torino Atalanta 3 a 1, a Bari Inter Bari 2 a 0, a Cremona Roma Cremonese 2 a 1, Fiorentina Napoli 4 a 2, a Genova Foggia Genoa 2 a 0, Juventus Cagliari 0 a 0, Milan Verona 4 a 0, Casertana Brescia 0 a 0, Lecce Bologna 1 a 0, Pescara Cosenza 3 a 1, Spalcomo 0 a 0, Vispesaro Carrarese 0 a 0. I risultati delle altre partite di serie B, Ancona Messina 2 a 0, Cesena Taranto 3 a 0, Lucchese Avellino 3 a 1, Palermo Padova 2 a 0, a Pisa Udinese Pisa 1 a 0, a Reggio Emilia Piacenza Reggiana 1 a 0, Venezia Modena 1 a 1. Ed ora le classifiche, serie A, Milan 54 punti, Juventus 47, Torino 41, Napoli 40, Roma 38, Sampdoria e Parma 37, Inter 36, Foggia 35, Atalanta 33, Lazio 32, Fiorentina 31, Cagliari e Genoa 29, Bari 22, Verona 20, Cremonese 19, Ascoli 14 punti. Classifica del campionato cadetto, due squadre al comando, Brescia e Ancona con 43 punti, Pescara 42, Udinese 38, Reggiana e Cosenza 37, Pisa 35, Lucchese e Bologna 34, Cesena 33, Piacenza e Modena 32, Palermo Messina, Lecce e Padova 31, Taranto e Casertana 30, Venezia 29, Avellino 27 punti. Il Milan dunque abbiamo visto ha festeggiato la conquista dello scudetto infierendo sul Verona, già retrocesso il Torino passando a Bergamo, ha scavalcato il Napoli conquistando il terzo posto. Roma, Sampdoria, Parma e Inter si contenderanno nell'ultima giornata la quinta posizione su cui i giallorossi vincendo a Cremon hanno davvero posto una seria ipoteca. Per il resto nulla da segnalare se non il successo del Foggia sul campo del Genoa. Cominciamo la nostra serie dei collegamenti proprio con lo stadio Meazza, San Siro, Milano per la festa dello scudetto milanista. Ennio Vitanza. Vediamo le immagini montate da Claudio Gandini, partita scontata, stile fine stagione col Milan desideroso di benfigurare davanti al suo pubblico. Milan in vantaggio, poco oltre il quarto d'ora, rigore per fallo in area su Maldini. Tira Van Basten e realizza, 1-0 del 23esimo gol del capo canoniere del torneo, il nono su calcio di rigore. Milan costantemente all'attacco, Gullit che è stato in campo dal primo minuto non sfrutta una buona occasione e poco più avanti alza l'ottimo suggerimento di Van Basten. Si rifà subito il campione rosso-nero, dopo un lungo controllo al limite, forte e angolato, raso a terra e palla in rete, 2-0. C'è in campo Simone al posto di Albertini che si prende subito un lungo applauso, girata acrobatica e palla respinta dalla traversa. Poi Ancellotti entra in campo al posto di Gullit e di un paio di minuti si toglie la soddisfazione di segnare due gol. Il primo con tiro dal limite, 3-0. Il secondo rubando palla ad un avversario e mettendo in rete dall'angolino. 4-0, questo è il modo veramente migliore per salutare davvero campione la folla di San Siro. Possiamo passare con le immagini allo studio. Festa doveva essere e festa è stata. Il Verona, che negli anni ha fatto spesso soffrire anche piangere i tifosi rossoneri, si è dettato al ruolo di spalla in questo show partita che il Milan ha voluto per festeggiare il suo dodicesimo scudetto. Al Milan adesso basterebbe soltanto un punto, un pareggio a Foggia per concludere imbattuto questo torneo. È un record al quale i giocatori rossoneri tengono molto e l'unico che è rimasto per questa stagione. Il Verona scende in B al termine di una stagione indubbiamente molto difficile. Il futuro del Milan è invece in Coppa dei Campioni. Linea Amafei. E a proposito del Milan Campioni d'Italia, vi ricordo che è disponibile nelle edicole e nei negozi specializzati questa videocassetta. I tulipani del Milan, la favola rossonera dei tre campioni olandesi. È un vero e proprio omaggio ai tre grandi giocatori Reikard, Gullit e Van Basten. Curata questa cassetta da Carlo Pellegatti e Franco Zuccalà. Più di un'ora di spettacolo calcistico che, senza risparmiare notizie, interviste e commenti, offre le più belle immagini dei tre giocatori olandesi. Bene. E siamo a Bari Inter. L'Inter ha vinto una partita inutile sotto il profilo della classifica, ma se non altro utile per far capire che ancora è viva questa squadra di Suarez. Franco Strippoli. La prima manovra è del Bari, angolo di Jarni, colpo di testa di Soda che termina oltre la traversa. Risponde l'Inter con Bergomi, entra in aria e il capitano Mabbiato riesce a respingere. Ancora il Bari con l'ex Cucchi pronto ad insidiare Zengar. Berti al centro per Fontolan, contatto con Loseto. Fontolan reclama il rigore, ma l'arbitro Cinciripini lascia proseguire. Poi al 46esimo il gol dell'Inter. Desideri di interno destro, palo e Bianchi di testa ribatte in gol. 1-0. La ripresa inizia con due sostituzioni nel Bari. Il colpo di testa di Loseto respunto sulla linea da Breme, poi è Brogi e Zengar respinge. Ancora il Bari, vola Brogi, ma l'arbitro lascia proseguire il gioco nella circostanza. Una buona opportunità per Klisman che in girata manda sul fondo. E poi il rigore in favore dell'Inter. Contrasto tra Progna e Klisman. Entra Pizzi e batte il rigore, ma sbaglia. Pizzi era entrato due minuti prima al posto di Fontolan. Cross di Breme per Pizzi che sbaglia ancora una volta. Poi Breme si fa espeller per un fallo di reazione su Soda. Dopo il rigore il Bari aveva perso per espulsione Loseto che aveva protestato. Dunque le due squadre a questo punto in parità numerica. Tiro di Iarni che Battestini respinge con il braccio, ma l'arbitro non concede la massima punizione. Era troppo vicino alla distanza tra i due giocatori. E poi al 46esimo è Pizzi che raddoppia per l'Inter. Dunque una partita modesta sotto il profilo tecnico tra squadre che hanno vissuto una stagione sfilacciata da delusioni roventi, ma che oggi hanno mostrato tanta buona volontà. In alcuni frangenti il Bari è apparso più vivace, ma l'Inter è stata senz'altro più astuta e ha sfruttato le opportunità che ha avuto. Linea Amafé. Importantissima vittoria della Roma a Cremona per il discorso UEFA, come abbiamo detto. Per il commento dei 90 minuti Marco Civoli, nostro inviato. Primo tempo ricco di episodi di grossolani errori, soprattutto da parte grigio-rossa. Al sesto Marco Lin mette in movimento Föller, chiuso bene da Rampulla. De Zotti poi esce per infortunio dentro Lombardini. Qui stacca molto bene Iacobelli. Vantaggio della Roma al ventiduesimo. Giande Biaggi in aria stende Carboni per Sguizzato e Rigore. Föller lunghissima rincorsa trasforma. Passano tre minuti la Cremonese pareggia grazie a questa legnata di Maspero su punizione. Alla mezz'ora contropiede, prevedibile ma inesorabile della Roma. Piacentini in profondità cerca Carnevale. Bonomi nettamente fuori passo. L'attaccante giallorosso, Fredda Rampulla. In chiusura due episodi, protagonisti Iacobelli e Giande Biaggi. Sul primo il centrocampista reclama una spinta di Giannini. Sul secondo Giande Biaggi è lesto a farsi largo in aria e a calciare bene ma Zinetti copre. Ripresa, beh, il terreno dello Zini si trasforma in una sorta di croissette. Lunghe passeggiate e qualche corsetta. Un paio di sortite, Esler e Salsano. Un tiriamo a campare dal quale logicamente ha tratto beneficio la Roma che ha colto il quarto successo consecutivo in questo finale di stagione. Possiamo staccare in studio e tutto quanto ne consegue verso l'UEF. È veramente tutto a tema, Fai. Fiorentina a show contro il Napoli. Tutto questo non fa che aumentare i rimpianti per una stagione che è stata davvero deludente per i tifosi viola. Enzo Baldini. Inizia subito bene la Fiorentina al quinto minuto con questo diagonale di Mazzigno parato con difficoltà da Galli. Le due squadre sono scese in campo in formazione largamente rimaneggiata. Al ventiquattresimo c'è questa azione di Borgonovo, oggi in splendida forma. Semina il panico in aria e poi la conclusione ancora di Borgonovo ma la sua posizione era irregolare. Al ventottesimo arriva il primo gol della Fiorentina sul lancio di Dunga. Tutto solo Maellaro, Pesca, Libero, Borgonovo che non ha difficoltà a battere il portiere Galli. Al trentaduesimo c'è la azione di Viola con Orlando. Prova Borgonovo ma è stato bello l'anticipo di Tarantino. Al trentaseiesimo arriva il gol di Blanche sull'angolo di Zola. Uno a uno. Al trentanovesimo ancora una rete e questa volta firmata sempre da Borgonovo vedete come supera il portiere Galli. Una splendida segnatura. Si va negli spogliatoi con la Fiorentina in vantaggio e si riprende al quinto con De Napoli che semina come brilli avversari e poi non ha difficoltà a superare Mannini. E' il gol del pareggio 2 a 2. La Fiorentina non ci sta e torna in vantaggio al tredicesimo. Borgonovo pesca Libero Dunga che di piatto supera ancora Galli. Efficace discesa di Mazzigno. Beltrammi appena entrato colpisce la traversa. Poi è il Napoli che ha l'opportunità di pareggiare. Silenzio in posizione favorevole. Spedisce alto. E poi al trentaduesimo arriva il quarto gol. Il terzo di Borgonovo. Il lancio di Dunga è Maellaro che effettua questo splendido assist e per il centro avanti è una festa. 4 a 2 per la Fiorentina. Una partita divertente condita come abbiamo detto da sei reti. Nessun tatticismo da parte delle due squadre e così era giusto. Ha giocato bene Mazzigno nel suo ruolo più congeniale di difensore. Trionfo di Borgonovo. Stranamente due giocatori in odore di partenza. Per il Napoli un atteggiamento un po' allegro e forse demotivato. Ho concluso la Firenze. Siamo alla moviola del novantesimo minuto. Collegamento con Bruno Pizzul per vedere insieme con lui alcuni fatti della domenica. Ma anche, vero Bruno, i gol della Sampdoria nell'anticipo vinto qui a Roma contro la Lazio. Sì, cominciamo appunto Fabrizio con i gol di Lazio-Sampdoria. Con Paolo Desiderio andiamo pure sulle immagini. Passa in vantaggio con Dol la Lazio al tredicesimo del primo tempo. Ma è sollecito il pareggio della Samp con Buso al trentaduesimo del primo tempo. Samp con un'altra maglia nella ripresa, come vedete, e secondo e vincente gol di Buso. Qui con le immagini siamo già a Cremona. Calcio di rigore a favore della Roma per questo atterramento subito da Carboni ad opera di Gian De Biaggi. Segnerà poi Feller. Un rigore anche in Bari Inter concesso da Cinciripini per l'atterramento di Klingsman ad opera di Progna. Bello il tocco di Desiderio, vedete Klingsman che entra in area di rigore. Su di lui lo sgambetto di Progna. Calcio di rigore che Pizzi sbaglierà. Poi però Pizzi segnerà il secondo gol per l'Inter vittoriosa a Bari. Infine nella gran festa di San Siro, il primo gol di Van Basten su calcio di rigore viene per la concessione del rigore stesso per l'atterramento di Piubelli su Maldini. Poi 4-0 per il Milan, gran festa a San Siro. E praticamente con la moviola è tutto e ora ci concediamo come di consueto possono partire le immagini un sorriso con Bill Body. L'unico 0-0 della Serie A è stato quello di Torino tra Juventus e Cagliari. Il pubblico delle Alpi ha salutato affettuosamente a lungo Stefano Tacconi in procinto di lasciare dopo nove anni la società bianconera. Cesare Castellotti, dovrebbe essere in collegamento Torino. Vediamo un po', sento la regia se vogliamo andare avanti e passare magari ad Ascoli o ai risultati della Serie C1. Benissimo, allora risultati della Serie C1, girone A. Vediamoli insieme, eccoli qui. Alessandria Chievo Verona 1-0, Empoli Spezia 2-1, Monza Arezzo 2-0, Palazzolo Siena 2-2, Pavia Carpi 2-1, Prosesto Massese 1-0, Spalcomo 0-0, Triestina Casale 2-1, Vicenza Baracca Lugo 4-2. In classifica la Spalla con 44 punti sale in Serie B con due domeniche di anticipo. 42 punti per il Monza, 41 per il Como. Vedo Ascoli. Benissimo, allora sì, siamo ad Ascoli Parma. Giancarlo Trapanese, il commento, la vittoria del Parma ad Ascoli. Si, comincia meglio l'Ascoli, subito con un inizio pimpante, la prima occasione proprio per l'Ascoli, c'è la deviazione di Taffareo, poi al terzo minuto il gol di Troglio, l'1-0 per l'Ascoli, l'Ascoli in giornata positiva. Il Parma reagisce però subito, c'è questa bella finta di Agostini per Catanese, che salta Fusco e mette alle spalle di Lorieri per l'1-1. Replica l'Ascoli con Maniero che si ingoia letteralmente a questa occasione, ma si fa perdonare al 43esimo con questa lunga fuga, il tocco come suol dirsi di fino nell'angolo alla sinistra del portiere del Parma e del 2-1, risultato col quale si conclude il primo tempo. In apertura di ripresa questa girata di Dainzara che impegna il portiere del Parma, poi il pareggio del Parma che giunge al sesto minuto con la deviazione di testa, un po' a sorpresa di Grun, che ci riprova poi poco dopo, ma Lorieri respinge in calcio d'angolo, al 46esimo questo atterramento di Zaini nei confronti di Nava e il gol di Catanese, Nava era subentrato da pochi minuti, il gol del 3-2. Si finisce, vorrei sottolinearlo, con la pacifica invasione dei tifosi dell'Ascoli che stiamo vedendo, un segno tutto sommato di maturità per un Ascoli che evidentemente ha vissuto una stagione davvero sfortunata, chiude in casa con un gol al 46esimo, anzi per la reszatezza al 91esimo, sul calcio di rigore peraltro anche discutibile, bene il pubblico ha festeggiato lo stesso, va a tutto merito del pubblico bianconero. Il Parma ha trovato le motivazioni probabilmente per la sua personale scommessa con la Lloyd Assicurazioni, comunque un Parma sempre in edizione frizzante, anche se in difesa ha concesso un po' troppo linea a Maffei. E torniamo allora a Torino, è pronto il collegamento per Juventus-Cagliari 0-0, Cesare Castellotti. Sì, chiediamo scusa, si era strappato un nastro, qui una conclusione di Alessio in apertura, a fil di po' congedo dal pubblico di casa ed è per questo che gli dedichiamo il fermo finale. Incredibile comunque questa partita, questo pareggio, tanto, tantissimo gioco della Juventus per nulla. Un fuoco di fila di conclusioni, di tiri, di Casiraghi, Baggio, Schillaci, Alessio, Luppi, Kohler, si sono alternati proprio tutti al tiro. Una traversa, un palo e anche due gol annullati alla Juventus. In questo contesto assume valore particolare naturalmente il pareggio ottenuto dal Cagliari con una ricetta i cui ingredienti a nostro avviso sono tre, la bravura, la combattività in generale della squadra rosso-blu, in particolare della difesa, un po' di fortuna e tanto, tanto Yelpo. Molto bravo oggi. Ho concluso da Torino. Grazie Castellotti. Ritorniamo un attimo ai risultati di Serie C1. Prima nel dare quelli del girone A ho detto che la Spal con 44 punti è in Serie B. Ci siamo fatti prendere un po' dall'entusiasmo per una squadra dalle tradizioni gloriose. Quindi è un augurio questo errore che abbiamo commesso per la squadra Spallina. Passiamo ai risultati del girone B della Serie C1. E qui invece c'è una squadra matematicamente promossa nel campionato cadetto, è la Ternana. Ma andiamo con ordine. Acireale, Regina 0-0, Barletta Chieti 1-1, Fano Licata 2-1, Fideli Sandria, Perugia 2-0, Giarre Casarano 2-1, Ischia Monopoli 3-0, Nola San Benedettese 0-0, Siracusa Salernitana 4-3, Ternana Catania 1-0. E con questo successo la Ternana sale a 42 punti e conquista con due giornate di anticipo la promozione in Serie B. 39 punti per la Fidelis Andria che oggi, come abbiamo visto, ha battuto per 2-0 il Perugia. Perugia staccato di due lunghezze a 37. E siamo alla vittoria del Torino a Bergamo. Un Torino che raggiunge il terzo posto della classifica alle spalle dei cugini bianconeri. Marco Lucchini ha seguito la partita per noi. Ed è il Torino a cercare per primo la via del gol. Sordo si libera di Porrini, vedete, e con un pallonetto colpisce la traversa. Poco dopo, cross di Perone di testa Boselli sopra la traversa. Attenzione il cross di Perone Boselli sopra la traversa. Alla mezz'ora, rimessa laterale di Annoni, tocca Lentini e Bresciang, mette in rete 1-0. 8 minuti dopo il raddoppio Granata. Bruno in avanti per Scifo che, finta, si libera, poi quasi dal limite in sacca. 2-0. Alla terzo minuto della ripresa, fallo di Cornacchia su Lentini. Vedete lo strattona e cartellino rosso espulso. Atalanta in 10. Alla sesto minuto dalla grande distanza ci prova Canigia. Marchigiani si distende in tufo. E 10 minuti dopo lo stesso Canigia, lanciato da Perone, accorcia le distanze. Ma al ventotesimo arriva il colpo di grazia per i bergamaschi. Boselli non riesce a neutralizzare Bruno che batte inesorabilmente Perone. Ci sarà poi anche un palo di Bresciani. L'Atalanta si congeda così dal proprio pubblico con una partita tutto sommato modesta. Se si esclude la generosa reazione all'inizio del secondo tempo. Poi la rete di Bruno, come detto, ha dato il colpo di grazia. Il Torino più concreto ha senza dubbio meritato il successo. Alla fine Mondonico è stato portato in trionfo dai tifosi Atlantini. Tutto, Lina Fabrizio Maffei. Prima dell'ultimo collegamento con la Serie A, uno sguardo rapido alla colonna vincente del Totip. Prima corsa X1, seconda corsa X1, terza corsa X2, quarta corsa 2X, quinta corsa X2, sesta corsa X2. E siamo al successo del Foggia a Genova. Alfredo Liguori. Si comincia Genoa da Speranze con questa azione, iniziata da Bortolazzi, sulla quale si avventa Ferroni, che sostituisce lo squalificato branco. Il cross di Ferroni, il colpo di testa di Scuravi, che però commette fallo, ruota e lo mette dentro, ma il signor Scaramuzza di Mestre annulla. E ancora il Genoa poi a tentare la via del gol. Vedete le proteste dei giocatori con Bortolazzi, ma il suo bel tiro finisce alla sinistra del portiere del Foggia. E adesso Rambaudi, gran tiro, gran parata di Berti, riprende Rambaudi, va sulla linea e sembra che la palla vada dentro, ma per fortuna del Genoa in questo caso sfiero soltanto il palo. Ancora Rambaudi su un tiro fortissimo di Picasso dalla distanza, ed è tutto Foggia in questa seconda parte del primo tempo. E poi Signori che ruba palla, il suo tiro però va a lato. E ancora Signorini che va via, ma Scialimo vi tocca la palla, poi la dà a Rambaudi, gran tiro, un diagonale. Ed è l'1-0, siamo al trentanovesimo del primo tempo. Si va al secondo, vedete un primo piano dell'arbitro Scaramuzza di Mestre, abbastanza contestato. Primo minuto, Rambaudi. Signori, niente da fare per Berti che protesta per un ipotetico fuorigioco che però non c'è. Reagisce il Genoa, c'è questa parata difettosa. Aguilera prova il palonetto, ma la palla va sull'incrocio. Primo tentativo sfortunato del Genoa, Fiorin, ancora Genoa con Ruotolo, ancora Aguilera sulla linea, respinge Padalino. Ancora Ruotolo in contropiede, palo. Ecco, un periodo sfortunato del Genoa che avrebbe perlomeno meritato un gol. Ma alla fine il Foggia soffrisce pure di un rigore. Petrescu però ha la mira non certo precisa, con Berti che va a protestare. Bene, un Genoa che finisce con molta tristezza questo campionato, un Genoa che è stato fischiato, contestato, core anche contro il presidente Spinelli. Un Genoa che non ha fatto molto in verità, come non ha fatto molto il Foggia per vincere. Ma il Foggia ha vinto conquistando così il suo ottavo risultato utile consecutivo, mentre il Genoa nelle ultime cinque partite non ha raccolto neanche un punto. Un dato che è notevole, due gol fatti per il Genoa, 13 subiti. La linea allo studio. Stanno arrivando le quote del Totocalcio. Intanto apriamo una finestra sul campionato di Serie B per la partita più importante. Pescara-Cosenza, Mario Santarelli per raccontarci la vittoria degli abruzzesi. Partiamo dal quindicesimo minuto. Una punizione di Nobile, la girata di Massara per l'area sinistra di casa. Il tiro è fuori. Qua l'episodio più sfavorevole al Cosenza. C'è un contatto tra Nobile e compagno. Per l'arbitro ceccarini di Livorno e calcio di rigore. Siamo esattamente alla mezz'ora. Batte Biagioni, ma Savorani riesce a parare, neutralizzando quindi un altro rigore. Risponde Ferretti e pare in due tempi Zunico. Questo episodio. Poi al quarantacinquesimo il Cosenza resta in dieci. De Ruggero fa fallo su Massara. Doppia munizione ed è cartellino rosso. Pagherà a duro prezzo la squadra di Reia. Peraltro molto combattiva questa inferiorità numerica. Sin dal secondo minuto della ripresa il gol di Nobile che sblocca il risultato. Per Nobile si tratta del terzo gol stagionale. Ne aveva segnati due all'Ancona nel girone di andata. Subito dopo c'è il raddoppio. L'azione è ovviamente sempre sulla destra dove giocano molto bene Pagano e Camplone. La palla perviene a Vivi. Undicesima rete per lui. Qui siamo con Massara che ha la possibilità di realizzare ancora. Zunico para in calcio d'angolo. Poi c'è una buona azione del Cosenza con un tiro di Marulla che Savorani riesce a respingere. Ancora Massara e ancora Zunico che gli dice di noce. Un duello a distanza tra i due. Qui è la terza rete del Pescara. Due minuti dalla fine. Un gran sinistro di Nobile. Quindi doppietta per l'ex interista e leccese. E ora un gran gol di Marulla che chiude praticamente il risultato sul 3-1. Salta anche Savorani. Depone nella rete sguarnita. Ultima occasione durante il recupero. Vivi cerca un pallonetto e la palla termina fuori. Un successo molto importante per il Pescara che ha profumo di Serie A. La squadra bianca-azzura ha vinto un altro confronto diretto. Aveva pareggiato ad Ancona. Oggi ha battuto il Cosenza. Lo ha fatto con le solite armi. Quelle di giocare bene sulle fasce. Il Cosenza ha destato un'ottima sensazione. Decisivo senza dubbio. Sono stati due episodi del primo tempo. Il rigore fallito da Biagioni ma direi più che altro ottimamente parato da Savorani. E l'espulsione di De Ruggero. Per il Pescara dunque la Serie A è sempre più vicina. A te la linea Maffei. Sono arrivate le quote del Totocalcio. Vediamole insieme. I 13 vincono 13.716.000 lire. Ai 12 vanno 523.700 lire. E siamo in chiusura. Prima di lasciarvi ai gol rallentati scelti come sempre da Gabriele Tramontano. Vi ricordo l'appuntamento con la Domenica Sportiva che questa sera dopo la piovra presenterà in studio con Aldo Agroppi, Nevio Scala e Marco Osio del Parma e Pasquale Bruno del Torino. E poi con Ezio Zermiani e alcuni protagonisti del Gran Premio di San Marino di Formula 1 vinto da Mansell su Williams. Poi con Vittorio Adorni, campioni di ieri e di oggi nel ciclismo, alla vigilia del Giro d'Italia. Inoltre in collegamento diretto con San Diego, gli uomini del Moro faccia a faccia con il campione del mondo della classe Coppa America, Aldo Migliaccio. Ad Adriano Panatta, infine il compito di commentare la vittoria di Jim Curie negli internazionali di tennis di Roma. Bene, è veramente tutto da parte mia. Grazie e arrivederci. A domenica prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.